Subito parliamo della morte improvvisa nel lattante, una cosa terribile. Ne parliamo con Bianca Scartezini poi. Torniamo in studio. Una riduzione tra il 50 e il 60% negli ultimi 20 anni delle morti in culla senza un perché. Ancora 300 in Italia ai neonati che ogni anno perdono il sorriso e la vita a causa della SIDS, la sindrome della morte improvvisa del lattante che avviene durante il sonno e che può determinare il decesso entro il primo anno di vita. Di che tipo di morte si tratta? È una diagnosi di esclusione, un bambino al quale noi non possiamo dare una risposta. Una tempesta elettrica, un'alterazione profonda tra sonno e respiro che avviene durante il sonno, prevalentemente forse durante il momento dell'alba e certamente in un periodo particolare della loro vita tra il secondo e il quarto mese. La scienza è riuscita a giustificare questo fenomeno? La scienza e la medicina cerca di giustificare questo fenomeno cercando le vere cause. La SIDS, la morte bianca, la morte in culla, è una non causa. Non è una malattia cardiologica, non è una malattia neurologica, non è una malattia infettiva, non è un trauma, non è un maltrattamento. Ed è questo l'obiettivo di riuscire a capire veramente che cos'è. Ci troviamo nel centro SIDS Alte, Regione Liguria, nel Dipartimento di Emergenza Pediatrica dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, dove la sindrome della morte in culla viene diagnosticata da un team multidisciplinare di specialisti. Medico legale, anatomo patologo, genetista, cardiologo, infettivologo, immunologo, tutti coordinati dal pediatra responsabile del centro. Essenziale per i genitori, in caso di morte bianca, è il sostegno dello psicologo per elaborare il lutto. Prima di tutto un trauma, un trauma perché lascia i genitori con senso di colpa, un senso di colpa ingiusto, inadeguato, ma che loro vivono profondamente. Attraverso gli incontri, le sedute, elaboriamo questi vissuti e se ci sono dei fratelli aiutiamo anche i fratelli. Il bambino deve dormire nel suo lettino, mai nel lettone con i genitori e deve dormire sulla schiena, ossia a pancia in su. Intorno non bisogna fumare, nessuno deve fumare durante la gravidanza né dopo la nascita del bambino. Il bambino non deve stare in un letto troppo surriscaldato né in un ambiente surriscaldato e dopo che la mamma avrà incominciato ad allattarlo e i due si saranno incominciati a capire, anche il ciuccio durante il sonno. E la prevenzione passa anche dalle vaccinazioni. Fondamentale per il neonato sono le vaccinazioni che ne consentono l'immunizzazione e che associate all'allattamento materno al seno gli forniscono tutte le difese necessarie in questa età così critica. Un protocollo, quello del centro, unico in Italia, che coinvolge anche la Procura della Repubblica. È un percorso che parte dalla famiglia quando la famiglia chiama il 118, le forze dell'ordine, quindi la Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica che ha un forte rapporto con il centro Sizza e un sinergismo tra operatori sanitari e magistrati, pur nel rispetto delle competenze.